E' stato presentato anche come il derby di Ballotelli, sentirà la pressione? Io penso di sì Fabio, ma penso per la sua crescita nei comportamenti, per diventare un grande campione deve passare anche attraverso queste partite. Saltato secco ancora Guarin, è pronto a traversone ed è Sciglio, la prova, Ballotelli non riesce a controllare, palla clamorosa per Ballotelli. 4 contro 3, pallone dentro e Saraui, posizione regolare, Stefano e Saraui, 1-0, 16 in Serie A, torna il gol dopo un mese. Cercato Ballotelli, Andanovic la palla è lì, che parata Andanovic, ma che parata Andanovic. Montari, l'apertura per De Sciglio, sempre libero di prima e mezzo, Ballotelli, Andanovic. Due volte! Trova la porta e trova ancora Andanovic, questa volta sul suo palo, ma sempre con sicurezza. Taglio di Boateng, sul primo palo! E palla fuori di niente, aveva tagliato con i tempi giusti Boateng. Posizione regolare, Guadaglini fa un piccino, Palazzo è pronto a traversone, ecco la pallina, Guarin, è a piatti, fa la pallina ancora lì, palo! Di Cassano! Attacca Nocerino, cerca il traversone, andiamo a Scalotto! E se che è! Scalotto! 1-1, appena entrato, Scalotto! Guarda il pareggio! Tutti sotto la doccia, 1-1 tra Inter e Milan.